Ha perso la vita a soli 36 anni a Camisano Vicentino, tragedia per un giovane che a bordo dello scooter stava percorrendo via Badia quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito fuori strada. È accaduto nella tarda serata di mercoledì per l'uomo residente a Gazzo Padovano. Non c'è stato nulla da fare quando i sanitari del Suom 118, allertati da alcuni passanti, sono giunti sul posto con l'ambulanza hanno potuto solo constatare la morte del giovane. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente aiutandosi con le immagini delle telecamere presenti nella zona.